Con questi progetti, che si chiamano Esprimersi, noi entriamo all'interno delle scuole per lasciare che si esprimano attraverso l'arte, attraverso dei piccoli e anche cortometraggi. Durante ogni incontro si parte sempre dalla visione di un filmato, di un corto, che nel caso di questo progetto sono sempre filmati relativi all'arte, quindi che ci permettano di fare un percorso artistico, un laboratorio artistico. Puoi provare a fare alcune attività in modo da riprendere i contenuti del video, così che anche loro si possano divertire, però che gli rimanga qualcosa e da una lezione all'altra effettivamente si ricordano tutto quello che abbiamo visto. Noi abbiamo rivolto l'attività ai bambini di quell'età lì, sempre comunque sul tema del cinema, della luce, del movimento, della proiezione. È stata un'esperienza veramente unica, sono stati bravissimi ragazzi. Grazie millابissimi ragazzi! Grazie a tutti!